In pista Hockenheim è l'esperienza vissuta da Giuseppe Forenzi, sedicenne pilota di Berbenno. Sul leggendario circuito tedesco si è svolto il quarto round del campionato Midget Italia Series. Il giovane driver valterinese ha raggiunto il dodicesimo posto assoluto in gara 4. Il weekend è stato caratterizzato dalla pioggia che ha condizionato gara 1. La domenica, dopo che in gara 3 il compagno di squadra ha avuto un incidente di gara, Giuseppe aveva il compito di rimontare dalla 22esima piazza con l'auto riparata in tempi record dal team Wolfhound. È stato autore di una delle partenze lanciate più belle della stagione. È arrivato in decima posizione in sole tre curve. Poi 20 minuti di lotta con sorpassi e contosorpassi fino a terminare dodicesimo e al secondo posto fra gli junior. Ora l'ultima di campionato che si terrà nel circuito di Misano Adriatico il primo weekend di novembre.